Domani una manifestazione regionale a Palermo della CISL e UIL. Cosa andate a fare a Palermo e che cosa chiedete? Sì, domani ci sarà una grande mobilitazione di tutto il gruppo dirigente della CISL e della UIL, dell'RSU, dell'RSA, perché in quel contesto, nella piazza del Parlamento, davanti all'ARS, andiamo a manifestare tutto il nostro sdegno contro la manovra nazionale e contro una politica ferma, statica, del governo regionale. Noi da tempo abbiamo chiesto una legge che possa creare sviluppo, lavoro, soprattutto il lavoro giovenile, produttività e incintivazione per le imprese sane, per le imprese che creano lavoro. Chiediamo anche una legge che possa portare la sanità nel territorio. Infine chiediamo la riduzione dei costi della politica che devono essere ridotte del 50% negli ultimi tre anni. Dopodomani venerdì invece a Casa San Filippo da Grigento si terrà una tavola rotonda insieme per il welfare territoriale. Che cosa intende presentare? Sì, intanto questa tavola rotonda non nasce a caso. È frutto di un lavoro che ci è tenuto impegnati per quasi 6-7 mesi. Noi proprio all'inizio del 2011 abbiamo mandato una lettera a tutti i sindaci della provincia di Grigento dove abbiamo presentato le nostre proposte per venire incontro ai bisogni degli anziani, delle persone non autosufficienti, delle persone disabili, degli extracomunitari, delle coppie giovani. Anche Favara è stata protagonista di questo protocollo. Questo protocollo riguarda due federazioni molto importanti, la federazione dei pensionati e la federazione del pubblico impiego che assieme alla confederazione che io rappresento stanno cercando di portare avanti questo problema. Il protocollo d'intesa significa assunzione di responsabilità, significa non tagliare i servizi sociali, significa non ridurre la spesa per i servizi sociali. E voi capite benissimo che la manovra nazionale sta cercando di fare cassa con i pensionati e con i pubblici dipendenti, con i comuni, questo non lo permettiamo. E devo dire che questi comuni hanno assunto una grossa responsabilità per non ridurre la spesa per i servizi sociali per i prossimi tre anni. E questa è una grandissima scommessa. In questa tavola rotonda saranno presenti i massimi vertici nazionali, sarà presente la pastorale per il lavoro e per i problemi sociali con Don Mario Sorce, sarà presente Antonella Longe della comunità Porta Aperta, che viva ogni giorno i problemi della povertà e delle nuove povertà.